Rifarsi una vita nel Cilento per rinascere dopo le gravi accuse legate alla mafia. Si tratta di un avvocato con parenti nel Cilento, al quale è stata revocata la misura degli arresti domiciliari e concesso il divieto di timore in Sicilia. La Corte di Appello di Palermo ha infatti accolto l'istanza di Alessandro del Giudice, difeso dall'avvocato Leopoldo Catena, accusato e condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. I giudici della prima sezione penale hanno dunque accolto la richiesta di mitigazione della misura per l'uomo che negli ultimi anni ha collaborato in modo attivo con le autorità, ammettendo i fatti e fornendo dichiarazioni autoaccusatorie. Ha inoltre dimostrato di aver lasciato la Sicilia da anni, stabilendosi in campagna nel Cilento ed ottenuto un nuovo stile di vita con espressioni di profondo pentimento per il proprio passato, un percorso che è stato anche supportato proprio dall'avvocato Leopoldo Catena. L'uomo ha infatti abbandonato il territorio d'origine al rischio criminogeno, dove si esercitava la professione di avvocato, per stabilirsi nel Cilento dove risiedono i suoi genitori e qui ha cambiato il suo stile di vita. I giudici hanno ritenuto che il prolungato periodo di custodia in un luogo lontano dalla Sicilia e il rispetto delle prescrizioni abbiano favorito un allontanamento dal contesto mafioso, aiutando il professionista a prendere piena consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni. Grazie. Grazie Grazie